Presidente, 43 punti, forse c'è un po' di rammarico per quel gol di Infantino nel finale che poteva valere la qualificazione ai play-off, però insomma è soddisfatto di com'è andata? Per me sono 45 perché la partita, a prescindere che l'abbiamo giocata molto bene, penso che l'azione di Infantino valesse il gol, poi 5 centimetri ha fatto la differenza, un'azione bellissima che se ne vede poche in queste categorie, quindi sono molto contento del campionato che abbiamo fatto e della crescita che vediamo di partita in partita, questo significa che su questa base di squadra ci si può contare e che sicuramente se prima iniziavamo con questo piglio, questo modo di giocare, questa voglia di entrare in campo, qualche punto in più l'avremmo fatto e oggi qui staremmo a parlare forse di qualcos'altro. Bravi a tutti, bravi alla società perché ha avuto la forza a gennaio di mettere dei pezzi importanti in questa squadra che molte volte quello che fa la società non si vede mai perché è tutto dovuto, è tutto normale, invece credo che la società anche lì ha dimostrato di tenerci per questi colori, di non voler retrocedere, di lottare fino all'ultima giornata, noi ci siamo salvati prima dell'ultima giornata, ma sicuramente non mettevamo 4-5 giocatori di categoria forse anche superiore, forse noi oggi staremmo qui a parlare di altro, ma io del futuro in questo momento non parlo, ho parlato di quello che ho visto oggi fino a mezz'ora fa, io del futuro parlerò tra qualche giorno, in questo momento assolutamente di futuro non se ne parla proprio, sto parlando di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito quest'anno, poi per il futuro andremo a capire, vedere, ci sono tante cose che dobbiamo vedere e capire, una volta visto e capito determinate cose si potranno riparlare di futuro. Ecco Presidente, l'ultimissima però nel caso in cui ci fosse la ripartenza come è un'ipotesi, insomma le chiedo se il Presidente Campitelli un po' si è stufato di campionati a salvarsi, ecco se si può legittimamente attendere qualcosina in più. Ma io credo che, mi hai fatto una domanda a cui non ti dovrei rispondere però, ti rispondo perché a me questi campionati a salvarsi non mi piacciono proprio, quindi sicuramente è arrivato il tempo, se dovessimo restare noi, di cambiare completamente aria e registro.